musica 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 ok, ne stiamo riniziando un altro ecco, magari sposto il cursore, se no ok e se no eh si, mentre apro lo cesto mi apre il coso quindi, roba da faber eh, si non sapevo che dovessimo iniziare nella mappa game 2 no, in teoria è 4, però non so fare le divisioni, quindi 4 diviso 2 fa 2 si, in teoria si, dovrebbe dare 2 però boh, sto sparando scemenze così a caso, oddio mia no, ti odio, mi ha rubato la la chest plate over power mannaggia a te aia no fa più, mi ha fatto cadere mi ha fatto perdere il tempo prezioso che questo vai e fly non lo sbaglio oh cavolo, lascio in pietra scappiamo che questo inizia a rompere le scatole uno di quelli che rompe le scatole forever and ever si, esatto rompe le scatole forever and ever che ti inseguono, anche se non è un bel niente però ti inseguono così tanto per vendetta esatto io voglio prendere quella cesta in alto a sinistra ed è quello che farò tutturu 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 un bel niente però la canna da pesca mi serve così tengo lontano e fa perché mi vogliono chillare non prendere non si danneggia nemmeno pensate un po' quanto è mistica questa canna da pesca c'è una cesta sopra l'albero o si ah no è qua sopra adesso la prendo ce n'è anche dentro casa ma dove si entra? in questo bellissimo posto? da qua no bravo non guardarmi non vedermi non fare niente credo che non si possa proprio salire o quasi ecco questa è la super trappola il trappolone come lo chiamo io in quello però c'è qualcosa di utile ecco ecco in quell'albero intendevo no? sembrava che ci fossero ceste però forse attraverso questi alberi posso accedere alle ceste che ci sono in the casa vero? beh certo se cado mi metto a urlare però vai ok e adesso? speriamo che ci sia roba bella che ne sia valsa la pena di arrivare fin quassù ok non è valsa per niente la pena non credo si possa più riuscire però boh ok c'era una presuppleita perché è chiuso qua? oh cavolo vuota ma si può risalire ma si può risalire? ma si da qua si dai che non sono messo per niente bene mi ero dimenticato anche i bots i bots i bots ecco nella uno con la spada in pietra che adesso mi segue mi chiederà sicuro eh a voglia mannaggia ho quello full iron full armor full tutto eh si ho un altro full iron quasi full armor yeah yeah sure sure proprio lo gente è lì ciò che mi doveva via via gli dici la mia arma più forte è una cabaret si esatto sono proprio messo malissimo malissimo anzi no le hanno già aperte anche quelle altre sicuramente avranno aperte provo in quella del fiume di quello che cos'è del lago del faping speriamo che sia piena però mi sa che utilizzerò la spada anziché lascio in pietra c'è una cesta là, adesso vado a prenderla quella là adesso la metto nell'inventario veloce ok abbiamo anche quasi finito il cibo quindi non va per niente bene stavo già dicendo no, ho perso la cesta esatto, come il mio solito ok, sono full leather adesso il che è inutile è completamente inutile ma vabbè tanto per dire che un minimo di armor ecco là ci dobbiamo partecipare al combattimento tipo andiamo lì boom due colpi di spada in legno e facciamo crepare quello che sopravviviamo esatto ma vedete il bug della canna da pesca fiu 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 ecco di nuovo ecco è morto è morto è morto vai 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 accelera corri più veloce anche se non puoi però corri più veloce la spada in diamante uzziii uno full iron o quasi with spada in diamante versus team di fapper with spada in non lo so perché lo stanno pescando? oh cavolo sono in quattro devo io aspetto dietro quello che sopravviverà vai 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 che tanto questo adesso lo chiliamo fermati no ma come cavolo ma quanto citi bro quanto citi eccolo la l'elmo in oro quello con la spada in diamante mi sa un'altra freccia oh no ah si ah sia spada in ferro che spada in diamante good tanto ci si rigenera la vita non abbiamo più cibo yeah proprio così dove sono andati? li ho persi di vista tre nomi che saltellano non ci sono tre name tag saltellanti dove cavolo sono vado a finire oh cavolo please dove siete? cibo ah ne abbiamo altro ok ah eccoli ah è quello con oddio due spade in diamante adesso mi giro con f5 non è che mi giro proprio ecco ce l'ho dietro ma cavolo c'è quello full iron perché devi seguire me non ti do nessun profitto c'è solo 15 punti 16 punti ecco bravo vai dal fa per il diamantato con la canna da pesca con la canna da pesca questo forse posso killarlo no lo devo lo aspetto giù shiftato tanto questo cade prendendo danno arco e frecce questa oh cavolo quanto donna mi ha fatto teo team ok facciamo team sei spagnolo i'm italian e scendi spera forse vuole dire aspetta aspetta l'ho perso di vista ah so you dove possiamo andare boh volumi ok un po' di inglese lo conosce vai bro bravo tra poco inizia il refill lo stick l'ho preso ok ho preso anche la torta ah la spada in pietra allora ah la gru ci sono delle ceste sì nella gru ma forse era un'altra gru eh sì mi sa di sì vorrei andare qua a vedere se dobbiamo aspettare di refill dobbiamo aspettare il refill no take no take ah grazie ah ah eh vabbè questa armor non mi serve ecco tieni insieme che ti piacciono di più irony got yes yes give me me la voglio io la spencer give me the ingot ah sta scrivendo in chat no no FX no però ti do le frecce tieni e lui probabilmente voleva killar mio si take take the arrow si the arrow queen bow hanno rifillato hanno rifillato dai che mi faccio lo spadegnamento se trovo le cose follow you vai vai che sono full iron adesso devo solo cambiarlo diamante diamante due diamanti si the diamond sword prendi la spada in ferro io tanto sono full iron pirai quanto me ne freghi allora c'è split in maglia rosa c'è c'è split in maglia non ce l'ho la c'è split in maglia ehi dietro di te allora la mela d'oro devo mettermi bene l'inventario allora vuoto poi gli do tre lingotti questo poi no vabbè i tre lingotti ah ok li ha presi lui eh adesso possiamo fare qualcosa contro contro qui e fa per là ma si via anche il cosa ok bravo lui è l'acciorino c'è una maglia di c'è una chest plate di maglia perché non la prendo ecco di take ecco go to kill the team siamo oh no siamo molti vieni sir nicolas ok follow you oh yeah adesso dobbiamo cercare il team ecco ne uno là mi sta seguendo si c'è uno qua c'era uno dove è andato eccolo 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 quell'elmo dorato non mi sugge aia 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 vai combatti sir nicolas dai 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 ma come è possibile che cavolo che prendo sempre solo le foglie dove ma sto facendo team ma che cavolo sto facendo sir nicolas e colpiscilo vai uccidilo che vendicami bravo mi ha vendicato peccato peccato se eh vabbè quanti punti ho pochi ecco no sono sceso sotto i 300 vabbè per ora è tutto ci vediamo prossimo episodio arrivederci qui